Diego, dove vai Diego? Diego, Diego, dove vai Diego? Ciao! Ciao Diego! Oggi parliamo del cerchio. Il cerchio è una parte di piano delimitata da una circonferenza. Ma la circonferenza cosa sarebbe? Beh, questa linea curva che è costituita da tutti i punti che sono tutti equidistanti dallo stesso punto che è il centro. Ecco, chiamiamoci... ecco, vabbè, lo potevo fare più centrato, vabbè, dai, fate conto che quel punto è equidistante da tutti i punti posti sulla circonferenza. Viene definito raggio del cerchio ciascuno dei segmenti che congiunge il centro con uno dei punti posti sulla circonferenza. Invece qualsiasi segmento che collega un punto della circonferenza ad un altro punto della circonferenza viene chiamato corda. Il diametro, invece, è un segmento che collega un punto della circonferenza ad un altro punto della circonferenza passando per il centro. Questa viene anche definita una corda massima. Il diametro misura due volte il raggio. Come si calcola il perimetro del cerchio, ossia la circonferenza? Occorre moltiplicare il doppio della misura del raggio per la costante pi greco. Infatti, come vedete, come ho scritto qui, la circonferenza è uguale raggio più raggio per 3,14. 3,14 è la costante pi greco. Allora, invece, per l'aria, per calcolare la superficie del cerchio, è invece raggio al quadrato per costante pi greco. Ossia, come ho esplicitato qua sotto, raggio per raggio per 3,14. Ecco, ma poi pensate al nome cerchio. Guarda, cerchi una O, se cerchi una O, tante volte la O è come un cerchio. Vabbè, questa cosa non c'entra niente, ragazzi. Questa cosa non c'entra niente con la... E se un raggio misura 500, ditemi voi quanto è il diametro. Dai, ve lo dico, adesso è facile. Il diametro è uguale a mille. Il diametro è uguale a mille. E ora una curiosità. Allora, vabbè, adesso questi li ho disegnati male, però dovrebbero rappresentare i cerchi dell'Olimpiadi, no? Se sapete, sulla bandiera olimpica si sono disegnati cinque cerchi intrecciati. Uno di colore azzurro, uno di colore nero, uno di colore rosso, uno di colore giallo, uno di colore verde. Vabbè, io adesso avevo solo la penna blu, eh? Questi cinque cerchi, cosa rappresentano sulla bandiera olimpica? Ebbene, rappresentano i cinque continenti. Quindi è l'unione dei cinque continenti. Quindi l'Africa, l'America, l'Asia, l'Europa e l'Oceania. Ebbene, rappresentano i cinque continenti. Ebbene, rappresentano i cinque continenti.